La seduta del 24 settembre Il Consiglio regionale ha commemorato alla presenza dei familiari l'ex consigliere assessore regionale Mario Valpreda, scomparso nel luglio scorso all'età di 76 anni. L'assemblea ha poi iniziato la discussione della legge sulla caccia e nel pomeriggio ha approvato due ordini del giorno in materia sanitaria e prorogato di sei mesi la commissione speciale di indagine su appalti e sanità. Porte aperte a Palazzo Lascaris. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha ricevuto una delegazione di alunni della Scuola dell'Infanzia di Envie per congraturarsi con loro per aver vinto la settima edizione del concorso nazionale Curcio per le attività creative. Inoltre, con l'inizio dell'anno scolastico e ripresa l'attività a porte aperte a Palazzo Lascaris, visite guidate per le scuole, dalla classe quarta elementare fino all'ultimo anno delle scuole superiori. La prenotazione può essere effettuata online collegandosi al sito internet del Consiglio regionale, compilando la scheda riservata alle scuole. Percorso formativo elette Ha preso il via la quinta edizione del corso di formazione per le donne elette dal titolo Protagoniste nei governi locali. Gli incontri, organizzati dalla Consulta regionale delle elette del Piemonte con la società S&T di Torino, si tengono dal 27 settembre al 12 dicembre 2013 in tutte le otto province piemontesi. Il corso si svolge in orario oltardo pomeridiano ed è rivolto in particolare alle donne già elette negli enti locali e a quelle che intendono impegnarsi in politica. Per una cultura dei diritti umani Cultura dei diritti umani e della non violenza sono due facce della stessa medaglia, sebbene questa consapevolezza non sia sufficientemente diffusa. E' stato questo l'argomento del primo dei cinque incontri organizzati a Palazzo Lascaris dall'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte, preseduta dal consigliere Gian Piero Leo, in collaborazione con il Centro Studi Domenico Sereno Regis di Torino. Ritorno a Palazzo Lascaris Un viaggio nella storia e nell'arte della belle epoche torinese. Il Consiglio regionale ha da poco editato il volume Ritorno a Palazzo Lascaris, scritto dagli storici dell'arte Arabella Cifani e Franco Monetti, sull'ex sede del Banco di Sicilia. Gli autori hanno presentato il volume raccontando alcune scoperte relative alle vicende storiche e alla ricchezza decorativa dell'edificio ottocentesco che è stato acquisito nel 2011 dal Consiglio regionale. Grazie per la visione!